Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Resta alto il numero dei contagi in Abruzzo che nell'ultimo report medico sono 2.248 di età compresa tra due mesi e 98 anni che portano il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza verso la cifra record di 300.000 casi, 297.480 per la precisione. Dei positivi di oggi 1.521 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido e resta alto anche il bilancio dei pazienti deceduti che registra purtroppo 5 nuovi casi tra i quali una 82enne della provincia di Chieti e un 59enne residente fuori regione mentre 3 casi sono risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL e sale a 3.054 da inizio emergenza il bilancio delle vittime. Il numero dei guariti che sono 731 in più non compensa dunque quello dei nuovi positivi pertanto gli attualmente positivi sono 1.511, 42.749 complessivi. Diminuiscono invece di tre unità i pazienti ricoverati in area medica che scendono così a 274 e resta fermo invece a 13 quello dei pazienti in terapia intensiva mentre gli altri 42.462 più 1.514 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti inoltre 4.579 tamponi molecolari e 11.438 test antigenici con il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno pari al 14,03%. Nei casi positivi di oggi 528 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila 568 in provincia di Chieti, 404 in provincia di Pescara e 612 in provincia di Terra.